Oggi la Chiesa ci conduce sul lago di Tiberiade a vedere gli apostoli al lavoro. Pietro dice vado a pescare, era il suo lavoro. Ed è proprio da quel gesto di andare a pescare che Gesù coglie l'occasione per dare una lezione di come si pesca. Lui non era più pescatore di pesci, era diventato pescatore di uomini. Gesù era sulla riba e non se ne erano accorti. È il Signore. E una volta che hanno scoperto che è il Signore la scena cambia perché c'è Gesù. Non si può pescare senza il Maestro, non si può pescare senza di Lui. Senza di Lui non si prende niente, né pesci né uomini. E quando hanno incontrato Gesù, Gesù gli dice chiaramente gettate le reti da quella parte. E allora presero una grande quantità, 153 grossi pesci. Tanto che facevano fatica a tirare a riva la rete con la barca. E quando arrivarono a riva, lì avvenne qualcosa di interessante. Si misero a pranzare insieme, mangiare insieme. Vivendo insieme a Gesù, quella che sarebbe stata l'immagine più perfetta della Chiesa. Il pasto comune, il pranzo comune, l'Eucaristia. Ed è proprio in quel contesto che Gesù domanda a Pietro se lo ama. E proprio dopo aver verificato il suo amore, lo costituisce pastore delle pecore e pastore dei pastori. È illuminante quel momento. Nella Chiesa ciò che conta è l'amore per Cristo. E oggi allora non possiamo non guardare al Pietro di oggi che si chiama Francesco. E lo possiamo identificare in un termine solo. Può essere simpatico, antipatico, piace, non piace. Viene dall'America Latina, l'avremmo preferito europeo, non mi piace così. Francesco chi è? È colui che più di tutti ama Gesù. E per questo è il testimone del Vangelo, il primo testimone della sua Pasqua, della sua Ressurrezione. Guardiamo a Lui con questa fede, è la sua identità, il più grande innamorato di Cristo. Per questo a Lui ha detto, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. Buona continuazione della Pasqua. Grazie. 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 Grazie.